Laureati e laureandi, cosa si aspettano dal futuro? Quali sono le loro prospettive lavorative e quali sono i loro sogni? L'Italia riuscirà a soddisfarli o sarà meglio andare all'estero? Siamo venuti a Tor Vergata per sapere cosa pensano gli studenti. Hai già lavorato, quali sono le tue prospettive per il futuro, i tuoi sogni? Il sogno è realizzare una cosa che al momento non dico, altrimenti rubiranno il copyright e quindi vedremo un po'. Ci stiamo lavorando però, ci stiamo impegnando a fondo e dalle conoscenze ottenute dall'università sicuramente riusciremo a trovare il modo migliore per concretizzare il sogno. Occupazione in combe, speriamo di trovare presto un lavoro. Adesso sono un po' incerto su quello che cosa fare, però spero di trovare lavoro presto. Come pensate di muovervi? Siete già inserite nel mondo del lavoro oppure vi introdurrete ora? Io non ho avuto ancora nessuna esperienza lavorativa, da domani inizierò a mandare curriculum e speriamo che mi chiamino. Nella speranza che qualcuno ci chiami? No, non ho ancora avuto esperienze lavorative dove mi sono laureato, nella mia specializzazione, quindi devo cominciare a inviare curriculum al più presto. No, no, ho deciso di continuare a studiare per io personalmente interprendere la carriera della magistratura, anche se non è una certezza. Credi che l'Italia possa soddisfare le tue aspirazioni lavorative? Anche da conoscenze ottenute da altri compagni, l'Italia offre delle esperienze lavorative ma con delle forti limitazioni su quelli che sono poi gli effettivi risvolti lavorativi che una persona può ottenere. Il nostro futuro in questo momento è condizionato da un governo che non fa altro che abbattere le prospettive dei giovani ogni giorno. Sicuramente no. Speriamo di trovarlo in Italia, altrimenti saremo costretti a cercarlo altrove.